Domenica prossima dunque su blocco del traffico in centro si replica, confermata l'ordinanza con la quale l'amministrazione limita il traffico veicolare nel perimetro che solitamente viene interessato dal carnevale, con buona pace degli operatori commerciali che ingoiano così un altro rospo amaro avendo criticato aspramente il provvedimento che ha desertificato il centro storico lo scorso di difesta e da allora nel comunicarlo la cittadinanza ieri il primo cittadino ha evocato ciò che negli anni 70 si verificò per l'austerity ovvero totale assenza di veicoli in tutte le città dove i giovani di allora però si impossessarono festosamente delle città desertificate trasformandole in un immenso parco giochi vedremo se l'invito verrà raccolto l'ordinanza in vigore per intanto è la medesima della domenica scorsa ma come annunciato sono state opportunamente fate delle modifiche orario è sempre lo stesso dalle 9 alle 19 l'unica modifica è il divieto di transito nella zona di via don gentili per chi viene da ponte metauro come domenica scorsa potrà fare tutta la statale raggiungere la stazione ferroviaria di lì proseguire poi dritto fino alla rotatoria e diciamo della bella napoli girare a destra per zona mare per chi viene da pesero come domenica scorsa sarà obbligato a girare a destra l'altezza di via morganti ossia la via subito dopo il semaforo del lido per chi viene dalla zona diciamo da dalle frazioni quindi da cucurano dall'interno potrà proseguire lungo la via roma fino arrivare alla rotatoria di ponte storto e poi proseguire per via le kennedy chi ha necessità di andare verso pesero troverà delle indicazioni alle rotatorie precedenti che sono quella nuova davanti vigili del fuoco e quella della zona seminario dove lì potrà girare a sinistra verso pesero l'altro blocco l'altra limitazione è per chi viene da via papiria che diversamente da domenica scorsa non potrà più arrivare fino in cima a semaforo di ponte rosso ma dovrà girare a destra in via mameli la via che poi prosegue porta in zona ospedale contemplate anche con l'ordinanza sindacale numero 4 alcune deroghe soprattutto che riguardano i residenti che verranno valutate seduta stante ai varchi che rimangono in totale 12. Il divieto come dice l'ordinanza è per tutti i veicoli salvo quelli che sono al servizio di persone con disabilità e che quindi possono transitare ma rispetto a domenica scorsa c'è un ampliamento nel senso che è consentito l'uscita dai soggetti che sono residenti all'interno della zona blu che hanno necessità di uscire per motivi di lavoro oppure motivi di necessità d'urgenza